chi ben comincia era importante vincere no era importante fare questo passaggio perché credo che oggi un pochino come squadra abbiamo sentito no questo evento il giocare in casa il giocare una partita così ed è normale io sono contento che siamo riusciti in una partita che era diventata anche sofferta devo dire anche per cose di qualità che ha fatto l'Olanda perché l'Olanda non è che è stata a guardare hanno fatto anche delle buonissime cose però noi siamo passati attraverso un certo tipo di situazione siamo riusciti comunque alla fine a migliorare poche cose a tenere un livello di gioco più alto del loro però credo che questo sia un passaggio importante per la mia squadra a livello di appunto esperienze di questo tipo e come no no io ti ringrazio perché vedo che hai una grande considerazione di noi penso che ci sia qualche squadra forte ma abbastanza forte no no noi intanto siamo contenti perché ci siamo creati questa opportunità e vogliamo giocarcela fino in fondo chiaramente al di là del fatto di giocare in italia o meno ma ce la vogliamo giocare fino in fondo anche perché questo prima del mondiale è veramente diciamo non un esame ma un confronto con le squadre che poi punteranno a vincere il mondiale quindi anche capire un pochino come siamo messi prima di iniziare la preparazione del mondiale l'unipal arena ormai è un tempio per la palavola italiana sia di club che nazionale che clima hai trovato questa sera bello finalmente caldo in italia riconoscevo tutte le parole del tifo perché siamo stati sempre all'estero praticamente non si capiva cosa dicevano mentre stasera ho capito quasi tutto noi dobbiamo ringraziare il pubblico perché oggi insomma ci ha aiutato c'è stato vicino anche in quei momenti che sono stati un po complicati il fattore campo quanto da un punto a 7 il fattore campo diciamo che dipende ci sono dei momenti quando sei in difficoltà che senti diciamo i tuoi tifosi sicuramente ti danno un aiuto nel cercare di reagire subito poi quanti punti vale non lo so però sicuramente ti danno un aiuto per reagire subito saluto